Perugia espugna in tre set il campo di Cisterne e stacca il biglietto per la semifinale Scudetto dove incontrerà a Modena le armi vincenti dei Block Devils, la ricezione, alte percentuali in attacco e soprattutto a fare la differenza il muro con tantissima pressione agli attaccanti avversari. 12 i punti diretti dei bianconeri nel fondamentale. La squadra di Gerbic ha vinto il primo set 25-23 e poi il secondo e terzo sempre 25-20. Ci ha messo in difficoltà il nostro cambio palla, però siamo stati bravi a tenere alta l'attenzione e portare a casa il risultato che era la cosa più importante. Dal 14 aprile dunque prosegue la caccia al tricolore, al via la Serie al meglio delle 5 con i canarini di Gianni vincenti in due gare contro Milano. Oggi giorno di riposo per i Block Devils, poi da domani testa alla Champions, giovedì la semifinale di ritorno contro Trento. All'andata il risultato ha sorriso Trento ma è ancora aperto. Abbiamo tanti giocatori esperti che sono abituati a giocare questo tipo di partite, questo tipo di pressione e dobbiamo andare lì secondo me sciolti e mettere in campo una buona pallavola come anche abbiamo fatto all'andata.